Buonasera, stasera vediamo come si fanno le uova fritte, intanto in una patella abbiamo messo dell'olio dica chef cosa abbiamo messo? Nella patella dell'olio extravergine di oliva, bene bene, adesso andiamo a buttare le uova bene bene, mettiamo le uova nella nostra patella e dopo aggiungiamo un po' di sale, ecco un po' di sale aspettiamo che le nostre uova cominciano a friggere per benino, le porteremo a cottura guardate che bellezza, guardate che bellezza come si stanno facendo per bene semplice esempio, c'è uovo, olio extravergine di oliva, carne e se volete aggiungete del pepe sapete quello che volete, il pepe si trova là, con questo, questo si ecco aggiungiamo una pizzicata di pepe, diamo più gusto ai nostri, guardate che bellezza vi auguro una buona cena a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta grazie a tutti